All'alto della mia saccenza e supponenza ho deciso di regalare perle ai porci, ovvero sì ho deciso di condividere con te, mediocre scrittore, un concetto che molto probabilmente non è detto, ti aiuterà a diventare qualcosa di più della mediocrità che attualmente sei. In molti cercano il segreto della grande scrittura, io a tal proposito ho fatto un video dove ho invitato tutti a riscoprire Selin, un video che ha avuto un ottimo riscontro ma che non so se ha portato chissà quali grandi risultati, allora ho deciso di regalare a voi, scrittori mediocre, poveri, mentecatti, sognatori della domenica che vivete in funzione di un selfie con qualcuno che ha letto la vostra merda, ecco a voi regalo una perla, un concetto e lo approfondiremo insieme perché magari aprirò le vostre teste bacate. Qual è la differenza fra uno scrittore mediocre come voi e un grande scrittore? Vedete, voi in qualità di scrittori mediocre e sappi che come te ne ho letti tanti, cercate di dare un significato a quello che scrivete mettendo in fila una serie di parole, una dietro l'altra. Così pensate di ottenere la famosa formula magica, rendervi comprensibili. Invece cosa fa un grande scrittore? Un grande scrittore non si basa sul mutismo dello scritto, un grande scrittore cerca il suono perché è nel suono che vive il senso delle parole. Vi basta sapere che primo fra tutti il buon Dio non ha creato il mondo scrivendo, ma parlando attraverso il suono delle parole. A tal proposito vi aiuta e ci aiuta un esempio straordinario, ovvero sia quello del Bal Shantov. Il Bal Shantov è stata una figura apicale della mistica e della Kabbalah. E cosa ci dice il Bal Shantov? Il Bal Shantov ci insegna che la parola Tevà, che fa riferimento all'arca di Noè, vuol dire anche proprio parola. Il che cosa significa? Che all'interno della Tevà, cioè all'interno della parola, vivono molteplici significati. E questi molteplici significati da cosa vengono espressi dal suono, dall'emissione di queste lettere che compongono il termine Tevà. Vi basti pensare che lo stesso nome di Hashem è così importante che lo si può scrivere e non lo si può pronunciare. La potenza del suono. Carmelo Bene parlava di Fonè. Carmelo Bene diceva non conta il testo dell'opera teatrale, conta il detto nell'opera. Perché? Perché il testo in quanto tale è morto, non ha una vita sua. Le vostre opere sono opere morte. Nel momento in cui il vostro libro è chiuso e non lo legge nessuno è morto, ma è ancora più morto quando qualcuno lo apre e lo legge. Perché legge solo una serie di parole una dietro l'altra senza un suono, senza un significato, senza un perché. Ecco, chiudete i libri con i quali studiate e iniziate a ascoltare tutto ciò che vi circonda a partire dalla musica. Sì, perché per diventare degli scrittori e non essere le merde che siete, la prima cosa che dovete fare non è leggere, è ascoltare buona musica.